È chiaro che se dopo questo tempo, questa crisi con tutta la sua cerimonia, che dà l'impressione che a noi non interessino le frane, mentre interessano le frane non soltanto a chi stava in maggioranza prima, ma a tutto il Parlamento, e gli interessa l'Italia di oggi, quella da cui deve tornare a mostrare la faccia, produrrà qualcosa di insignificante, qualcosa di politicamente raffazzonato, che quindi il Capo dello Stato non potrà consentire sia la strada per governare il Paese, allora hai ragione tu, si è perso un sacco di tempo, ci saranno dei responsabili che non sono quelli che sono nati in Parlamento, ma dei responsabili di questa perdita di tempo, e gli italiani sapranno bene individuarli. Io credo ancora che sia possibile invece che Mattarella abbia scelto una strada di chiarimento sostanziale e reale dentro quello che era il governo e dentro quella che era la maggioranza, intesa come un grande accordo tra PD e 5 Stelle, dove la figura di Renzi, questo va detto, va sottolineato, non è la stessa della formazione di quel governo, nel senso che il governo Conte II nasce con Renzi ancora dentro il PD, quindi è un governo che nasce dal PD con il via libera di Renzi, che costituiva una corrente importante minoritaria del partito, con un patto con i 5 Stelle a cui si aggiungono altre figure. Renzi questa volta, dopo essere uscito con un gruppo di persone, apre una crisi, consente a Conte di dover aprire una crisi, che può avere due sbocchi, o la presa d'atto, che quell'esperienza politica così com'è non ha i numeri per crescere, o la presa d'atto che Italia Viva comincia a desistere, perché oggi Renzi ha un partito, e il suo ruolo nella formazione di questo governo è completamente diverso da quello di prima. Prima lui aveva dei ministri e dei sottosegretari del PD che aveva indicato, noi ne conosciamo tre, i famosi tre dimissionari, ma non è detto che fossero solo quei tre, nel senso che nelle correnti del PD, nella formazione di quel governo, alcune persone dentro il governo erano in qualche modo legate a lui, ma non al punto da lasciare il PD per andare in un altro partito. Quindi se questa crisi si risolve, dando ruolo identitario al suo partito, e quindi anche lasciando il leader di questo partito nel suo ruolo, nella sua personalità ovviamente trasbordante, che noi sappiamo e sappiamo essere sempre... Ma Sallusti dice, stanno trattando, siccome Renzi ha detto, voglio dei punti di programma preciso, quello che stanno discutendo, lo dice Sallusti, sono più che altro le poltrone, o stanno decidendo di fare un punti programmatici dove mettere uno, due, tre, quattro... Questo vorrei capire, tu che sei all'interno del PD, cosa ti arriva? Da quello che sta avvenendo è questo, il Presidente della Repubblica non ha dato un mandato qualunque a FICO, ha dato il mandato di verificare se si può ripartire da quella maggioranza di persone, perché la maggioranza di partiti è già cambiata rispetto a quella originale di quel governo. In questo caso è ovvio che verrà, come tutti stanno dicendo, messo nero su bianco ciò che è l'intesa possibile, per valutare se il Capo dello Stato riterrà che questa intesa possibile sui fatti, non sulle parole, crei le condizioni per un governo che procede. È chiaro che certi fatti corrispondono anche a certe figure, questo è evidente, ma non è questo il momento in cui si parla delle figure. Luca, però...